A cosa serve una procura in ambito immobiliare? Sai di cosa si tratta? La procura è un procedimento molto utile. Offre comodità, acquirente o venditore possono infatti delegare un'altra persona a rappresentarli e a svolgere tutte le operazioni necessarie. Offre risparmio di tempo e denaro, soprattutto se ti trovi all'estero. Infine, offre semplicità, in quanto consente ad un professionista, ad esempio un avvocato, di occuparsi di tutte le formalità necessarie. Tuttavia, è importante che la procura sia conferita a una persona di massima fiducia e limitata alle sole operazioni specifiche e nette richieste. Deve essere conferita in forma scritta, specificando in modo preciso i poteri concessi al procuratore e firmata dal delegante. Infine, di solito si procede con l'aiuto di un notario, per garantire che l'atto sia conforme alle leggi e alle esigenze del delegante. Per qualsiasi dettaglio o informazione in merito, non esitare a contattarci. Diventeremo la tua agenza immobiliare di fiducia.